Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri siamo arrivati ormai alla fine di questo tag perché mancano ancora quattro domande compresa quella di oggi e poi questo lunghissimo tag che ci ha tenuto compagnia per due anni e mezzo avrà fine, giungerà al termine e adesso devo pensare se ideare qualcosa di simile perché comunque questo appuntamento mensile mi stimolava, mi piaceva quindi vediamo un po' se poi mi metterò a pensare qualcosa di simile, ovviamente non uguale, magari non sui libri, magari anche su qualcos'altro ma ci sto pensando, quindi eventualmente se poi lo farò ve ne darò ovviamente comunicazione ma adesso direi di non perdersi troppo in lunghe premesse e di arrivare subito alla domanda di questo mese che è qual è il libro che vorresti aver scritto? io voglio allontanarmi un po' da quelle che possono essere le risposte tradizionali perché subito avevo pensato a un libro esistente, quindi un romanzo, comunque un saggio, qualsiasi cosa di qualche autore che comunque ha pubblicato e venduto il libro e ho cercato di immedesimarmi e di capire se c'era un libro particolare che avrei voluto scrivere però in realtà poi ho pensato di parlarvi di un'altra cosa che è un libro che io stavo per scrivere davvero, nel senso che lo avevo iniziato, lo stavo per pubblicare e poi non l'ho scritto, non l'ho pubblicato, non l'ho terminato quindi in realtà il libro che vorrei aver scritto è quello che effettivamente avevo cominciato a scrivere non so se avete visto qualche video precedente in cui io vi dicevo che in passato ho scritto un libro e quello effettivamente l'ho scritto, l'ho pubblicato, adesso non è più in commercio però era un libro che riguardava la grafologia, quindi gli aspetti grafologici di atleti in particolare io avevo preso in esame i praticanti a livello agonistico di karate che è un'arte marziale e avevo analizzato la loro grafia traendo da questa gli aspetti che potevano essere in comune e riguardare ovviamente la loro personalità e la loro gestione dell'aggressività e questo libro è stato pubblicato ed è un libro molto particolare perché può essere interessante soprattutto per le persone che sono attratte o affascinate dall'aspetto della grafologia perché comunque è tutto incentrato sulla grafologia è un libro che è stato in commercio per un po' di anni poi ho deciso di non andare avanti con questa cosa tanto ne ho venduto pochissime copie perché non sono mai stata una persona famosa quindi le copie vendute erano pochissime e ho deciso poi di lasciarlo fuori commercio quindi non è in vendita non ho nemmeno nessuna voglia di andare a venderlo su Amazon, su Ebay non ho proprio più voglia di fare queste cose quindi è andato fuori commercio e va bene così anche perché quella è una cosa che ho fatto tanti tanti anni fa e che non sento neanche più tanto appartenente alla mia vita attuale però questo era per dirvi che io un libro in passato l'ho scritto poi ne stavo scrivendo un altro che trattava un tema completamente diverso perché era un libro di sociologia e diciamo che gli argomenti di quel libro li avevo un pochino tratti dalla mia tesi di laurea che è stata una tesi di laurea tutta concentrata su un argomento principe della sociologia che sono i social network ed era una tesi puramente sociologica perché io avevo preso in esame proprio tutti gli aspetti di questo tema che oggi è sicuramente fortissimo che è quello dei social network quindi avevo analizzato un po' tutto questo mondo avevo analizzato l'identità avevo analizzato i rapporti sociali ma anche i rapporti con se stessi dello stare in vetrina quindi sui social quindi del farsi vedere, del condividere e io avevo pensato che dalla mia tesi avrei potuto scrivere un libro un libro di sociologia però rispetto alla tesi di laurea che era molto per addetti ai lavori avevo elaborato la cosa in modo che potesse diventare un libro divulgativo quindi non un libro che soltanto un laureato in sociologia avrebbe potuto capire ma un libro che potesse arrivare ed essere facilmente comprensibile anche alla persona che magari non sa nulla di queste cose ma che semplicemente sta sui social quindi magari renderlo anche un po' ironico anche un po' divertente, semplice per arrivare un po' a tutti insomma quindi io avevo iniziato già a scriverlo avevo fatto dei capitoli avevo già fatto l'indice insomma era la struttura diciamo che c'era avevo messo qualche contenuto stavo facendo degli approfondimenti avevo addirittura scelto anche la copertina del libro però poi vicende della vita mi hanno portato ad avere dei rallentamenti con questo lavoro e poi di fatto è successo che ho smesso di starci dietro ho smesso di dedicarmi a questa cosa ho smesso di scriverlo e la cosa è finita in un cassetto quindi questo libro io poi non l'ho mai scritto mi sarebbe piaciuto scriverlo quindi la domanda la risposta alla domanda di questo tag è avrei voluto scrivere il libro che effettivamente stavo scrivendo che era quello il titolo sarebbe stato leggermente diverso da quello della tesi anche per non copiare completamente la tesi l'avrei intitolato social network e identità quindi una cosa un po' più corta è un pochino più forse comprensibile però insomma poi è stato abbandonato come vi dicevo però è importante sottolineare una cosa io vorrei averlo scritto quando era il momento perché oggi nessuno mi impedirebbe comunque di riprendere in mano questo libro e di finirlo però oggi sono molto cambiata io oggi non ne ho più voglia sinceramente è passato il momento poi social network che esistevano a quei tempi erano diversi funzionavano in un modo diverso alcuni non c'erano quindi ad esempio Instagram non c'era nemmeno quindi oggi quel libro sarebbe assolutamente superato quindi io non potrei più finire quel libro ma dovrei scriverne un altro da capo perché i social sono cambiati troppo quindi per scrivere un libro che non sia superato e vecchio dovrei rifarlo completamente dall'inizio e sinceramente non fa più parte dei miei desideri non fa più parte dei miei interessi non mi interessa più fare un lavoro di quel tipo e quindi è una cosa del passato incompiuta ma della quale comunque non ho intenzione di riprendere le redini perché non sono proprio interessata oggi ho voglia di fare altre cose non ho più voglia di mettermi ad approfondire determinati temi da un punto di vista comunque così tanto didattico tra virgolette perché comunque quando si scrive un libro poi bisogna anche approfondire determinate cose in un determinato modo e quindi insomma vorrei averlo scritto nel momento in cui lo stavo scrivendo ma oggi non mi interessa più riprendere questa cosa questo lo dico perché magari qualcuno potrebbe pensare perché non lo riprendi non ricominci perché oggi non ne ho voglia sinceramente non ne ho più voglia voglio fare altre cose però se io lo avessi scritto sicuramente oggi sarei contenta di averlo scritto comunque a me la sociologia è sempre piaciuta tantissimo è una materia che comunque mi ha sempre affascinato molto sono molto contenta di aver studiato sociologia ma fa parte di un'altra vita diciamo così fa veramente parte di un'altra vita e quindi tutti gli argomenti che io ho studiato all'università perché poi non ho studiato solo ed esclusivamente sociologia ho studiato anche altre cose alcune mi sono piaciute di più altre mi sono piaciute di meno ma comunque fanno parte tutte di un'altra vita oggi ho proprio voglia di cose diverse cose molto diverse direi quindi è per questo che non riprendo in mano quel libro anche se ovviamente una parte più sociologica di me è rimasta perché io sono su instagram sono su facebook sono su youtube quindi diciamo che questo aspetto della sociologia lo vivo in prima persona quindi non mi interessa più approfondirlo a livello di studio però mi interessa viverlo mi interessa viverlo in prima persona e condividere i miei contenuti quindi in quel senso però in questo senso interessa anche a tante altre persone sicuramente almeno tutte quelle che sono sui social perché sennò non sarebbero sui social ovviamente se non volessero vivere questa esperienza direi che più o meno ho risposto a questa domanda io come al solito vi invito a fare questo tag perché è particolare quindi anche molto stimolante ogni mese trovare la risposta a queste domande vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme mettete un like mettete un like Grazie a tutti